Buongiorno a tutti la mia vita io vi Pietro io ti mangio me ti magno me ti magno io ne faccio io pietro io me ti magno è musica sì ma pesso da merda mi ti mai allora mi ti mangio non mi ti toccano e lo has fa io che cospano io che cospano auf Non mi toccate, non mi toccate. Io mi dobbiamo fare la musica senza palle. Ma che vuoi fare? Te la voce, ti ammazzo. Ti ammazzo io! Ma che vuoi fare? Ma che vuoi fare? Ma senza palle del verde. Ma senza palle del verde. Non mi toccate. 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 Vieni qua. Dai, posta. Stanno a piedi. Stanno a piedi. Carichiamocela qui. A brutto... Carichiamocela qui. Non mi toccate. Non mi toccate. Ora, perché? Devi levare sempre a rapida. Non mi toccate. Non mi toccate. Non mi toccate. Non mi toccate. Che vuoi fare? 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 Allora, cosa vuoi fare? Che vuoi fare? Allora, fare. Passa per... Ma che mi stai chiesto? Tu non manchi l'occhiato, io te sto... Non manchi l'occhiato. Oh, ti faccio parlare. Guarda, guarda questa progettata che ha dato. Vieni, è tanta gente. Non c'è l'idea. Vieni, questo cazzo. Allora, facciamo una cosa. Io sono bravo, ragazzi. Poi ti faccio vedere dove stai. Che mi stai chiesto? Allora, io te sto di bene così. Tu mi hai chiesto? Io so qua, tu mi hai chiesto. Ah, buongiorno. Ma che mi stai chiesto? Ma che mi stai chiesto? Ma io mi chiesto? Oh, io stai chiesto. Ma che mi stai chiesto? Ma che mi stai chiesto? Ma che mi stai chiesto? Allora, non è caso di stare qua. No, non è caso. Allora, poi non devo inserire via, ma so. Allora, non è caso di stare qua. In queste condizioni. Ok? Stai chiesto. Stai chiesto con la collaggia. Ascolta. È successo già altre volte. Che vuoi fare? Vuoi rimanere in ufficio? Io sì, e te. Eh? Che vuoi fare? Eh? dirigenti a portarlo? Qu� ci vuoi fare? Che lascia? Che te, io dico? Ah, attorno a entry, non viste dietro. Vai! Yeah! Grazie a tutti